Poi sui cambi strategici c'era questa diatriba, perché alla fine se siamo in grado di entrare subito con degli elementi fuori? Io parto da un presupposto che intanto sul 4-3-1-2 penso che questo sia lo schema più consono proprio alla natura, alle corde di Allegri. Quante volte Allegri ha chiesto alla società datemi un trequartista perché quello era il suo modo di giocare. Poi chiaramente una squadra che giocava a memoria col 3-5-2 di Contiana a memoria ovviamente sarebbe stato pericoloso e da stupidi andare a intaccare una macchina perfetta o quasi. Sul discorso dei cambi, certamente l'innesto di Quadrado in corso d'opera è quando si riprenderà lo stesso Piazza, però uno anche dice, è il dubbio che mi affligge molte volte, dico vabbè ma signori se Quadrado è quest'uomo che ti scompaggina una partita, perché come dire prendere la medicina quando già ho la febbre, quando invece potrei prenderla sin dall'inizio? Cioè io per fare un paragone, se io ho il mal di testa, io mi prendo l'antidolorifico subito, è inutile che soffro, anche perché poi ripeto quei 20 minuti, quei 60 minuti senza Quadrado li puoi pagare. Luigi adesso arriva, ci sono persone che non credono molto all'effetto dei medicinari, no? Va bene. Li prendono proprio solo quando sono costretti.